come potete vedere siamo su fifa 23 sulla carriera giocatore c'è il cambio il tecnico ma nel campo un ragazzo cresciuto nel divaio prima presenza per lui per i professionisti sapevano che prima o poi questo giorno non sarebbe arrivato a lavorare manco tenere il pallone vabbè ne prendiamo un altro adesso che dite vediamo se mi fanno arrivare il pallone ma qua non so ne manco passare per loro stessi sicuriamoci eh vabbè siamo salvati se la live si blocca sarà colpa della connessione vediamo se ne usciamo da qui incredibile forse ce la possiamo fare ma la partita è già finita comunque però vabbè vediamo se riusciamo no per poco adesso magari ci fanno anche il contropiede guardate almeno un collo voglio fare dai 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 così non facciamo niente la prossima volta più lunga lo puoi tirare questa pallo vabbè il tutto questo ho perso il mio giocatore ma dov'è il portiere è che non sa nemmeno lui cosa fa però vabbè ma il mio giocatore tutto questo dov'è finito non trovo più il mio giocatore incredibile ah è là sotto vabbè facciamo finta di niente 5.7 in pagella proprio in esordio eh no so proprio è una pena queste sordi qui sono libero vabbè stamani mattina è festa forse non ce la fanno proprio incredibile un minuto di recupero qui non passa nemmeno 50 minuti per fare un coso con questa squadra bravo qui il difensore che legge bene questo pallone allora io parolacce non ne voglio dire però non vi garantisco nulla allora io non voglio proprio commentare quello che è successo in questa partita perché un esordio proprio è meglio che non lo dico perché è una cosa inquardabile allora gli allenamenti ovviamente per iniziare forse li devo fare per forza io quelli che danno più punti sono questo qua sul dribbling poi sui passaggi quello che da più punti ho questo questo super cross e poi come tiro facciamo questo qua che da più punti ritorniamo indietro andiamo a fare la partita cosa sto facendo continuiamo la carriera senza fare danni ok è un amichevole contro la fauntoria ah a me non mi ha fatto proprio giocare faccio talmente schifo che non mi ha fatto proprio giocare vabbè come dici pure simulazione veloce non mi fa giocare vabbè sono finite le amichevole forse non lo so no ma c'è qualcosa che non fa comunque che non mi fa giocare cioè aspetta perché non mi fa giocare voi l'ha trovato una spiegazione no per caso io non lo so ultimo giorno di mercato vabbè se ci volete vendere vendeteci mi ha scacciato ma non è vero mi ha scacciato ma mi ha scacciato dal calcio direttamente ovviamente non penso che ci acquisterà mai nessuno perché non ci fanno ne giocare nemmeno nel palermo figuriamoci che possiamo giocare in un'altra squadra aspettate raga io l'ho notato ora guardate in alto all'angolo a sinistra sono in riserva grazie che non mi fa giocare mi hai messo in riserva non mi era mai capitata una cosa del genere su questo gioco simulazione veloce ancora non mi fa giocare allora io abbiamo anche perso il campionato non parlo troppo è meglio se non parlo troppo perché guarda allora ci alleniamo di nuovo devo farlo no ma io non li faccio dai e mi sa che purtroppo lo devo fare per forza ma non me ne frega niente ma pure che fa tutto F allora possiamo potenziarci il giocatore mettiamo come prima cosa cominciamo a migliorare i tiri anche se di tiri ancora non ne abbiamo fatto nemmeno uno facciamo questo poi ci miglioriamo ovviamente la velocità perché facciamo cagare ok adesso dovremmo essere già un pochino più veloci potenziare i tiri dentro l'aria e facciamo questo ovviamente forse adesso mi fa giocare forse offerta di trasferimento vediamo quale squadra aspettate raga il PSG mi ha offerto il trasferimento del PSG il PSG il PSG il PSG il PSG il PSG